Quando ho fatto 9 anni mio papà mi ha portato un regalo, un libro. Così ho cominciato a leggerlo. Ogni tanto mi addormentavo. Ho fatto anche brutti sogni. Il teatro è un inferno, ma anche un paradiso. Dinanzi a me non fu or cose create a te. Lasciate ogni speranza, voi entrate. Grazie. Grazie. Grazie.